Buonasera e ben ritrovato in un stato appuntamento con la voce delle istituzioni, al piacere di avere in studio il sindaco di Calazzo di Cadore, Luca De Carlo, che saluto e che ringrazio per la disponibilità come sempre. Il primo argomento che trattiamo è naturalmente attinente alla pandemia che ci siamo per il momento lasciati alle spalle, timorosi che possa anche ritornare, ma questo se non altro può servire per approntare tutte le contro di misure nel caso che. Come avete vissuto, come ha vissuto lei direttamente la pandemia in un piccolo comune di montagna? Diciamo che un piccolo comune comunque con grandi problemi, perché la pandemia non conosce né confini né limiti geografici, quindi nonostante i casi a Calazzo siano stati limitati intorno a una decina, è evidente che l'organizzazione generale del comune ne ha risentito. Ne ha risentito perché non eravamo in grado di fornire i stessi servizi che riuscivamo a fornire prima, anche per le limitazioni dello spazio all'interno del comune, con qualche dipendente smart working, che comunque costituisce una nuova forma di lavoro, che per certi versi potrebbe essere anche apprezzabile, per altri del rapporto con il cittadino magari un po' meno. Penso solo agli appuntamenti che oggi in comune si riceve il suo appuntamento, e non come prima quando uno entrava a orari per stabiliti, è un po' un problema, ma il problema maggiore è stato quello di riuscire a fornire servizi, a supportare i cittadini in un momento di oggettiva difficoltà, anche solo la comunicazione, anche solo la sovrapposizione tra dpcm dello Stato e ordinanza della Regione hanno lasciato sindaci e anche e soprattutto polizia locale a dover interpretare determinate norme e decisamente non è stato facile, una su tutte, quando noi provivamo alla gente di andare per boschi, chiaramente questa era magari una norma più comprensibile per chi vive in città che non poteva uscire dall'aria aperta, a Calazzo qualcuno mi diceva ma scusa ma perché posso andare a fare la fila al supermercato e non posso andare a fare una passeggiata nel bosco? Purtroppo le norme vanno fatte rispettare anche quando non lo si condivide. La domanda che volevo fare era proprio questa, sfruttando anche il libero pensiero che la contraddistingue, che non sia fatta la differenza che era abbastanza evidente tra zone, quella che ha appena detto lei mi pare, quella più eclatante. Ma guardi, io capisco che le critiche a volte sono un po' esagerate nei confronti del governo e lo dico io che di fatto siedono i banchi dell'opposizione anche a Roma, però mi metto anche nei panni di chi ha subito e ha dovuto gestire per prima in Europa un'epidemia come questa. Secondo me sono stati fatti degli errori, le altre nazioni sono riuscite a copiare dai nostri errori, cioè a non fare i nostri errori guardando come avevamo fatto noi e quindi è stato più facile. Certamente però ci sono state una coercezione esagerata della libertà probabilmente, che però derivava dal fatto che nessuno voleva prendersi la responsabilità di mantenere aperte determinate realtà. Poi c'è stato un errore, secondo me, quello sì gravissimo della chiusura, seppur io fossi uno di quelli che diceva adesso chiudiamo tutto, però tra una settimana, dieci giorni, quando capiamo qual è l'entità e la portata di questa pandemia, cerchiamo di riaprire. Quando si è riaperto, si è riaperto per codici a teco. Cioè qualcuno, a seconda dell'attività che soggiora... Codici a teco sono i codici che vengono assegnati dalla Camera di Commercio e stabiliscono il settore nel quale si lavora. Certo, questo non aveva nulla a che fare con la sicurezza, perché un codice a teco dice in quale settore appunto si lavora. Il discriminazione sarebbe dovuto essere quello se il datore di lavoro era in grado di mettere i propri dipendenti e se stesso anche nelle condizioni di salute di poter far lavorare i propri dipendenti. Quindi è stato un errore che ha bloccato tante realtà che magari potevano continuare a lavorare. Un esempio su tutti, gli imbianchini nelle case, nelle seconde case, perché non avrebbero potuto andare a lavorare da soli, in piena sicurezza, evitando il contatto con chiunque. Purtroppo avevano un codice a teco che non era ritenuto indispensabile e quindi rimanevano a casa con ovviamente i problemi di incasso e di fatturato che poi sono protratti per mesi. C'è stato un errore. Il tessuto economico ha sofferto? Il tessuto economico ha sofferto tantissimo, pertanto io ho sempre detto, ma anche quando in aula ho cercato di spiegare al governo, cercando di mettere una pezza a qualche provvedimento che secondo me era fin troppo blando nei confronti dei comuni. Si pensi solo che l'Anci ha stimato una perdita per i comuni di 5 miliardi e la manovra oggi è di poco più di 3 miliardi. Quindi ad oggi per regolare l'andamento dei comuni mancano ancora 1 miliardo e 8. 1 miliardo e 8 che si dividono per quasi gli 8 mila comuni d'Italia e fanno pesare il tutto sulle casse dei comuni e quindi di conseguenza sui servizi ai cittadini. Il tessuto però, quello delle partite IVA che sono sempre stati quelli che maggiormente hanno contribuito a derogare servizi attraverso la loro tassazione ai comuni, oggi sono quelli più in difficoltà e purtroppo strumenti emergenziali per intercettare il loro disagio non ci sono perché se noi oggi chiediamo l'ISE, il reddito a questi operatori, l'ISE è sempre riferito all'anno prima, quindi l'anno prima loro avrebbero potuto avere e hanno un reddito assolutamente congruo e alto mentre il problema ce l'hanno quest'anno. Si pensi a chi ha una pizzeria e è rimasto chiuso, quello è fatturato che manca e quindi sono chi ha investimenti, chi ha gli affitti da pagare. Si è trovato in situazioni di disagio, per me, l'ho sempre detto al primo minuto, sarebbe stato da mettere sui conti correnti 5 mila Euro a tutti come hanno fatto altre nazioni d'Europa, noi copiamo sempre la Germania però quando fanno le cose giuste da copiare non le copiamo. 5 mila Euro avremmo intercettato i bisogni per quel mese, due mesi, dopodiché chi aveva titolo ad averli li teneva, chi non aveva titolo ce li ritornava, tanto il fisco quando è ora di farti pagare ti raggiunge sempre. Allora, ha fatto l'assunto che i comuni hanno potuto spendere di più perché c'erano tutte le procedure di igienizzazione del territorio. In parte compensate però da trasferimenti dello Stato questo, bisogna essere onesti. E poi il fatto di andare incontro alle esigenze della cittadinanza, le casse piangono, in molti comuni si teme addirittura il default, c'è il fallimento. Sì, è chiaro, se mancano un miliardo e otto. Noi siamo stati fortunati perché avevamo come amministrazione pianificato di avere tanto avanzo, che normalmente è un indice non di grandissima amministrazione, nel senso se hai avanzato vuol dire che non hai speso bene i mesi precedenti. Noi avevamo fatto una scelta, è quella di dire facciamo un po' di avanzo di bilancio e con quello facciamo la pianificazione degli interventi soprattutto sulle scuole che volevamo fare. Naturalmente abbiamo utilizzato tutto questo avanzo per andare incontro alle nuove situazioni di disagio e siamo stati, tra virgolette, abbastanza fortunati nell'averlo. Chi non ce lo ha è in difficoltà o contrae i servizi che rende ai cittadini oppure è costretto a... Una delle richieste che è arrivata dal mondo delle associazioni è togliete l'IMU, togliete la COSAP, togliete la TOSAP, la stessa cosa, i tributi che devono essere dati al Comune, lì ha fatto qualcosa. Sì, noi siamo intervenuti con 50 mila euro per di fatto quasi a zerare per determinate categorie la tariffa sulle immondizie perché di fatto, ripeto, tutte quelle attività commerciali no, ma anche gli uffici che sono rimasti chiusi ovviamente hanno patito e parecchio questa crisi. Gli strumenti che abbiamo sono questi, la disposizione sono questi. L'IMU è uno strumento che senza copertura dello Stato difficilmente i comuni possono sostenere da soli, ma la Tari a fronte di un gettito di 60-70 mila noi siamo usciti sulle attività commerciali a fare una manovra da 50 mila euro, quindi ci sono alberghi che si troveranno esattamente il 20% da pagare rispetto all'anno scorso. Cercando di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, un dato di fatto è che la montagna sembra attiri molto di più degli anni precedenti e quindi probabilmente quello che si è perso nell'ospitalità, peraltro eravamo anche in bassa stagione, forse si può recuperare. C'è qualche segnale in tal senso? C'è un segnale di crescita soprattutto nella richiesta di case ovviamente in affitto, perché la gente ha ancora un po' di paura oggettivamente quindi di andare magari in strutture alberghiere che garantiscono sì, per come li conosciamo, altissimi standard di igiene e di sicurezza, però la gente ha ancora un po' di paura, quindi abbiamo un fenomeno che è quello dell'affittanza delle seconde case in grandissima ascesa. Dopodiché ci auguriamo comunque che nei prossimi giorni siano messi nelle condizioni anche gli albergatori di poter fare il full almeno nella stagione estiva e soprattutto possano dedicarsi a quelle attività come i matrimoni che costituiscono per tanti alberghi, per tanti ristoranti e per tante strutture in realtà la paracea di tanti mali insomma. Il desiderio sarebbe quello di poter andare incontro organizzando tanti eventi e qua purtroppo noi abbiamo una limitazione sul numero delle persone e poi anche sulla gestione delle persone stesse, cioè pensare di fare un evento come ne abbiamo noi tanti, la fiera del bio, piuttosto che anche la cena popolare il 7 di agosto, piuttosto che il festival degli artisti di strada a numero chiuso diventa molto difficile e anche quando sono presenti sul territorio poi dovremo organizzare tutto un sistema di controlli che sfugge e soprattutto è difficile da attuare per noi che abbiamo di fatto un vigile solamente e quindi dovremmo avere più persone specialmente volontarie a controllare. Dopodiché è evidente che il miglior controllo è sempre la responsabilizzazione degli utenti. io credo che il Covid possa essere anche una maniera per cui la gente viene responsabilizzata. Io vedo molte persone oggi girare con la mascherina, evitare assembramenti, vedo che la gente ha imparato qualcosa o meglio ad adattarsi a questa situazione. Bene sarebbe insomma riuscissimo a coniugare l'esigenza di tenere un paese vivo con l'esigenza di non esasperare i contagi, questo è evidente. Bisogna programmare anche questa nuova forma di turismo, nuova fra virgolette diciamo che si incrementerà notevolmente che è quella dei camperisti proprio per i motivi che abbiamo detto quindi la possibilità di autotutelarsi e voi avete delle aree camper e mi pare che proprio in queste giornate avete fatto il regolamento. Abbiamo costruito un'area camper, alla fine abbiamo avuto un finanziamento di 25 mila euro da parte dell'associazione camperista sulla lunga via delle Dolomiti, quindi la gente può arrivare lì con il camper, lascia il mezzo e se ne va in bicicletta. Quindi un turismo a contatto quasi zero. Abbiamo approvato il regolamento, prima della stagione estiva inizieremo a renderla operativa di modo che a fronte di un piccolo pagamento poi ci possa sostare almeno per un massimo di 48 ore nella nostra piazzola, trovando così, e già sono tanti quelli che ci scrivono dicendo ma quando apre non apre, perché è un turismo in forte crescita e che va delimitato per non avere poi camper parcheggiati comunque su tutto il territorio comunale che è vietato. E questo è il succo del regolamento, quanto possono stare, come devono comportarsi. Sì, 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 che è poi un regolamento standard che è realizzato sulla base del regolamento di tutte le piazzoli in Italia, insomma, quindi una cosa abbastanza, nulla di particolarmente difficile. Tutto questo spingerebbe ad accelerare nel limite del possibile la messa in sicurezza del territorio dopo Vaia, perché qui ne arriva una dopo l'altra. Sì, veramente, adesso penso ci mancano le cavallette, credo quelle hanno colpito la Sardegna, infatti me ne sono occupato da responsabilizzare dell'agricoltura, tra l'altro, e quelle sono veramente terribili. Ci mancano le cavallette, insomma, abbiamo avuto Vaia e già non siamo ancora riusciti a ripristinare tutto quello che Vaia ha distrutto. Poi abbiamo avuto il Covid e ci ha di fatto paralizzato per tre mesi, paralizzato tutto, imprese, noi e quant'altro. Adesso speriamo vivamente che a questi periodi emergenziali, che ormai sono di quasi due anni, si possa ritornare a fare pianificazione, perché è vero che i comuni hanno ormai poco strumenti finanziari, però è altrettanto vero che non possiamo neanche ridurci semplicemente a fare della mera amministrazione, altrimenti basterebbe veramente un commissario prefettista, ma ne basterebbe uno per tutti i comuni della provincia. E questa potrebbe essere un'idea. Non è assolutamente un'idea, io sono assolutamente a favore di un sindaco in ogni paese, perché quando il sindaco si può tirare per la giacchetta, risponde direttamente al proprio elettorato, non può fare il furbo e quando sbaglia non viene rieletto. Purtroppo poi c'è qualcuno che viene rieletto nonostante per tre volte la dimostrazione delle forze. Una falsa autodenigrazione. Sì, esatto, mi sto autodenigrando per... Falsamente. La modestia non fa parte del mio bagaglio culturale. A proposito di biciclette, con tutto il comprensorio del Centro Cadore avete avviato questa idea del bike sharing, che vuol dire la possibilità di noleggiare, tradotto in italiano, una bicicletta elettrica. Sì, elettrica. A che punto siete? Perché adesso tornerebbe... Ma noi non abbiamo preso il bonus, quel famoso bonus monopattino che tanto ha fatto discutere che... Andavano cittadine solo sopra un certo numero di abitanti. Siamo alla follia ormai, quella è una marchetta vera. Cioè, solo cittadini sopra i 50... Solo comuni, capoluogo, sopra i 50 mila abitanti. Quindi escluso anche Belluno. Poi io non capisco quale sia la razza di questo, però, insomma, fa parte... Quando si fa un provvedimento come il decreto rilancio di 266 articoli e la maggioranza è formata da 250 persone, ti viene da pensare che c'è un articolo marchetta per ogni deputato della maggioranza. E questo più o meno è quello che è accaduto. Noi invece con il bike share abbiamo fatto un ragionamento diverso. Abbiamo fatto accesso a un bando della regione qualche anno fa, l'Unione Montana ha messo le risorse che mancavano per fare in modo che ogni comune avesse un punto di ricarica delle bici elettriche e oggi stiamo preparando il bando, gestito comunque dall'Unione Montana, per avere un gestore, una cooperativa, un'associazione, chiunque si renda disponibile, per avere poi il pareggio delle biciclette, perché ovviamente i posti più turistici, penso ad Auronzo, sarà catalizzatore di più arrivi di bici e qualcuno può lasciare lì la bici nei punti che verranno segnalati per poi dopo trovarsi un operatore che comunque la riporta nel posto magari di ritiro, che potrebbe essere Calazzo se la gente arriva con il treno. Però il sistema della bici elettrica è un sistema che consente a tanti cittadini, ma soprattutto alle famiglie, di poter vivere in bicicletta le nostre zone, altrimenti in bici ci vanno solo quelli che hanno un po' di gamba, perché è evidente che quando tu dalla stazione devi salire in centro a Calazzo, se la bici non è elettrica, saluti. Con qualche difficoltà, chiudiamo con un'informazione purtroppo che riguarda lo spopolamento, perché il prossimo anno non ci sarà la prima media in comune. Sì, la prima media è un problema, ci sono degli anni in cui abbiamo delle flessioni di nascite veramente pesanti, per cui è stata una decisione anche in tanti genitori di non iscriverli a Calazzo e di iscriverli da un'altra parte. Stride un po' con le nuove normative anti-Covid, perché se è vero come è vero che mancano gli alunni oggettivamente. Io ho presentato anche un ordine del giorno, tra l'altro, al governo che è stato anche approvato, che dice che fino a 10 nei paesi di montagna si possono lasciare perché in deroga, perché oggettivamente con il coronavirus, dovendo avere più spazi per ogni singolo alunno, poteva anche in deroga qualsiasi normativa quest'anno essere effettuata. Mi auguro che ci siano ancora spazi e margini di manovra, altrimenti avremo un anno saltato per poi riprendere il prossimo anno, perché sicuramente noi non saremo a favore della chiusura della scuola, se non con una razionalizzazione diversa di tutti i servizi, che però dovrà essere oggetto di studio e di condivisione da parte di tutte le comunità locali. Non deve essere, non ci sono bambini, si chiude una scuola, perché non sta nessuno in terra. Anche questo è un atto dei servizi che vengono a mancare e poi innesca degli altri meccanismi. È chiaro che se non ci sono bambini il problema della razionalizzazione non è solo una scelta politica, è anche una scelta tecnica. Laddove non ci sono bambini è difficile mantenere una classe. Avremo altri argomenti da trattare, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Come sempre ringrazio Luca De Carlo, sindaco del Comune di Calazzo di Cadore, per la sua disponibilità. Auguri di buona amministrazione e soprattutto che gli eventi che vengono organizzati, nonostante il Covid, possano avere successo e che soddisfino coloro che comunque continuano a operare in territori così difficili, ma anche così belli. Buon lavoro. Grazie. Grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Grazie a voi.